Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Vlogmas numero 22 e oggi sono tornata con una nuova challenge delle 24 ore. Sto mese ho fatto un botto di challenge raga, ma oggi andremo a fare una challenge super natalizia perché appunto oggi mi sfiderò a mangiare per 24 ore solo cibo natalizio. Non potevo farmi mancare questa challenge, assolutamente, quindi direi di partire subito e iniziamo con la colazione ovviamente. Dunque per colazione mangerò ovviamente una fetta di pandoro vegano, qui ho dell'acqua calda perché adesso andiamo ad aprire il calendario dell'avvento di Yogi Tea e la tisana che troveremo la useremo per farci colazione. Calendario aperto, cerchiamo la casellina 22, eccola qui e oggi troviamo, uh buonissima detox, questa l'ho presa un sacco di volte e direi che ci sta, è super buona. Ok, ho una gran fame tra l'altro e anche se questo panettone, no che non è un panettone dannazione, è un pandoro perché sbaglio sempre vabbè, non è proprio il massimo, ci accontentiamo dai, fa Natale. È molto molto secco raga, molto secco. Che poi mi è venuto anche il dubbio, io ho pensato non è che magari è diventato così secco perché ho aspettato troppo per aprirlo? Perché effettivamente l'avevo preso un po' di tempo fa e magari buo essendo tipo semi artigianale si è seccato prima potrebbe essere colpa mia, non lo so. Comunque il sapore è buono eh, è solo la consistenza un po' così. Mi aiuto a mandarlo giù con un po' di tisana. Wow, è super super buona. Magari il sapore non è tra i più i natalizi che possiamo trovare tra le tisane di Yogi Tea perché tante sono molto speziate con la cannella, però comunque ci accontentiamo. Anzi facciamo che lo mangio così, mi sa che è il metodo migliore. Oh, così sì, combo perfetta raga, l'abbiamo trovata. Quindi bon, questa è la mia colazione, super approved. Sto già entrando in pieno nell'atmosfera natalizia, ma noi ci vediamo dopo con il momento del pranzo. È ora di pranzo e sto per preparare una cosa che per me sa un sacco di Natale, esattamente come l'anno scorso quando ho fatto la challenge 24 ore solo cibo natalizio. Diciamo che si tratta comunque di una challenge abbastanza personale perché a Natale non mangiamo tutti le stesse cose, quindi alcuni cibi che per me sono super natalizi per altri potrebbero essere una cosa invece da boh tutti i giorni, oppure non lo so, qualcosa che mangiano ogni tanto ma non a Natale e viceversa. Quindi ecco, questo è il mangio per 24 ore solo cose che per me sanno di Natale. Spero di essermi spiegata. E infatti una cosa che a me sa molto di Natale sono i tortellini, i cappelletti, questo tipo di pasta qui in brodo. E infatti, tataan, oggi andrò a preparare questi cappelletti vegani che hanno un ripieno di cavolo, se non ricordo male, e forse anche qualcos'altro chi lo sa, e li farò appunto in brodo. Preparo il tutto, ci vediamo appena è pronto. Beh raga, che dire, se non è Natale questo io, cioè, non saprei cos'altro possa esserlo. Questo piatto mi sta urlando, Natale! Ma che meraviglia! Mi sa proprio di casa, di fuori fa freddo, ma io mi scaldo con un buon brodino. Andiamo subito ad assaggiare e vediamo come sono questi cappelletti vegani al cavolo. Spero non ustioni troppo, buon appetit! Vi dirò, non sono affatto male, ho scoperto che il ripieno è fatto non solo con cavolo, ma anche con pan grattato, tofu fumicato e forse anche qualcos'altro. L'unica cosa che vi consiglio, nel caso magari un giorno vogliate provarli, non seguite i tempi di cottura indicati sulla confezione, perché infatti mi sembrava strano, ce l'ha scritto tipo 15 minuti. Dai 13 ai 15 minuti, ho detto ma come, mi sembra un po' too much. E infatti sono arrivata forse a 10, ma 10 a dir tanto e sono anche già un po' troppo cotti. Però buoni, non sono eccessivamente saporiti, ma si sposano un gran bene col brodo. Il mio pranzettino sarebbe finito, ma manca lui, la casellina di oggi del calendario dell'avvento di cioccolatini vegani. Avrei dovuto aprirlo stamattina, ma mi sono totalmente dimenticata raga. Oggi sto un po' tra le nuvole, quindi andrò ad aprire la casellina 22 adesso. Ma visto che questa è una cosa che faccio sempre solo su Instagram, vi metto la storia che caricherò. Così almeno vedrete comunque la scena. Ok, ora posso effettivamente concludere il mio pranzo. Ci vediamo tra pochissimo con la merenda raga, non vedo l'ora. Oh sì, è giunto il momento della merenda e ho qui una buonissima, credo, spero non l'ho mai provata questa, cioccolata calda, che non vi posso proprio far vedere perché se no me la rovescio addosso, ma comunque è cioccolata calda. Infatti ho deciso di usare questa, che è il preparato per cioccolata calda con curcuma, che abbiamo trovato nella planta box. E l'unica cosa raga che è uscita super liquida, non so se doveva proprio uscire così, magari era pensata proprio liquida. Però ecco, di solito io mi aspetto la cioccolata quella bella cremosa, ma potrei anche aver sbagliato le dosi. Non escludo questa cosa. In ogni caso, io non sono una grande amante delle cioccolate calde, ma durante il periodo natalizio mi viene proprio sta cosa, sto bisogno fisico di cioccolata calda. Quindi sì, è un alimento che magari non è che proprio bevo nel giorno proprio di Natale, ma comunque nel periodo natalizio di solito lo vado un po' a cercare. Vediamo questa cioccolata dark con curcuma com'è, perché proprio non riesco a capire anche dal profumo se sia buona oppure no. Vabbè, proviamola. Uh, ok, wow. Ha un sapore un po' particolare, è un cioccolato fondente molto forte che mi piace. La curcuma non si percepisce, ma comunque è una spezza che non ha proprio un sapore particolarmente fungente. Però la trovo un po' scialba. Infatti un'altra cosa strana che avevo notato è che la preparazione te la fa fare con l'acqua calda. Mmm, quindi secondo me ha un buon potenziale questa cioccolata, ma va rivisitata. Quindi magari aggiungendo un po' di maizena in polvere, se questa qua comunque non tende ad addensarsi, io lo facciamo fare con la maizena. Mettendoci del latte vegetale al posto dell'acqua e magari anche una bella spolverata di cannella. Forse così potrebbe avere un pochino più di senso. In ogni caso non è imbevibile, è solo super amara e super anacquata. Però diciamo che non la butto via, sicuramente la finisco. Quindi questa sarà la mia merenda di oggi. Me la bevo anche un po' velocemente perché devo uscire a scambiarmi i regali di Natale con le mie amichette. Però prima di andare dobbiamo aprire i calendari dell'avvento ovviamente. Andiamo. Eccoci qui, ovviamente quello di Yogi Tea è già sto aperto stamattina, quindi quello non lo apriremo. E iniziamo da quello del DM, casellina 22. Ho un problema, non la sto trovando e sono qui tipo da mezz'ora che fisso il calendario. Qualcuno mi aiuti per favore, ma dove cavolo è la 22? Aha, trovata, era qui. Vediamo un po' cosa troviamo oggi. E oggi il DM ci propone di nuovo un mix di frutte e semini vari. Sì, stiamo ritrovando le stesse cose che avevamo trovato all'inizio, quindi si ripetono. Comunque vabbè, dai ci sta, sono buone. Va bene, passiamo adesso a quello di Harry Potter. In questo caso la casellina 22 l'ho già individuata. E oggi abbiamo... Uh, Draco is you. Ed eccolo qui montato. No vabbè sto male raga, non pensavo che avremmo trovato Draco Malfoy. Tra l'altro con questa espressione è tutta un po' da bulletto delle giostre. E questi capelli mi fa morire. Paura Potter. A questo punto togliamo quello di Yogi Tea e ci rimane soltanto quello di The Gustabox. Andiamo ad aprire. Cerchiamo la casellina 22 senza metterci cent'anni magari. Ho trovata. E all'interno troviamo... Cos'è questa cosa qui? Oh, ok. Abbiamo 220 grammi di crema spalmabile ai pistacchi. Non mi sto entusiasmando perché sicuramente c'è dentro il latte. E infatti è così. Però, eh, fosse stata vegana non mi sarebbe affatto dispiaciuta. Però vabbè, magari la porto a Natale ai miei e mia madre saprà cosa farci. E comunque tantissima raga, vi giuro che pesa un botto. Sono tornata a casa. Ho una fame raga anomala. Cioè, ma è una cosa tipo devastante. Non so come mai. Forse perché sono stata parecchio in giro. Ho camminato, il freddo, tutte queste cose qui. Quindi, insomma, ho parecchia fame. E rimediamo subito perché mo' preparo la cena. Cosa mangerò per cena? Dunque, ho deciso di preparare una cosa che in realtà non è una cosa proprio tipica della mia famiglia a Natale. Ma è una cosa super tipica a Brescia. A Natale. Cioè, un sacco di persone bresciane sulle loro tavole a Natale propongono questa cosa. Di cosa sto parlando? Della porchetta. O in questo caso della vorchetta. Perché questa è la porchetta vegana. Non l'ho mai provata. L'ho presa a posto per questa challenge. Vediamo un po' com'è. E ad accompagnarla preparerò questa polenta. Che sì, è una polenta valsugana, di quelle istantanee. Quindi non esattamente quella che magari la nonna di ogni famiglia bresciana preparerebbe. Però, insomma, dobbiamo un po' adattarci. Ecco, non ho manco il pentolone di rame e nemmeno un fornello per poterlo usare. Quindi ce la facciamo andare bene così. Tanto è buona lo stesso. Preparo il tutto e ci vediamo appena è pronto. Ma la bellezza di questo piatto, signori, cioè, è la cosa più invitante del mondo. Mi sta ispirando un sacco l'acquolina, giuro. Porchetta vegana e polenta potrebbe essere l'accoppiata vincente. Anzi, ne sono già praticamente sicura. Ma assaggiamo e vediamo com'è. Eh, sì, sì. Mi viene da dire solo sì, ammirando questa meraviglia. Soltanto a me sta ispirando così tanto. Cioè, io spero che in videocamera renda. Perché è veramente una cosa spettacolare. Direi di non perdere altro tempo e andare a assaggiare già la combo. L'insieme polenta e porchetta vegana. Buon appetit. Addio, raga. Addio. Perché è piccante, però. Mi sa che la porchetta, anche perché non ho messo peperoncino nella polenta, ovviamente. Ok, non me l'aspettavo piccante, però comunque è buona. È veramente buonissima. E poi è un piccante molto leggero. E ve lo dico io che ormai proprio non lo reggo. Cioè, lo sento subito. Però, cavolo, che buono. Veramente non potevamo concludere in maniera migliore di così. Ed è talmente buono che non riesco a smettere di mangiare. Cioè, non voglio fermarmi. E me lo voglio anche super gustare. Quindi facciamo così. Io mo' me lo mangio tutto. Con calma e tranquillità. E concludiamo quindi questo video. Sì, che bella questa strisciata sui denti che mi sono andata con la forchetta. Ah, i brivili. Comunque, giunti a questo punto del video, scegliamo un bel hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti. L'hashtag della fine potrebbe essere... C'è l'ora, facciamo hashtag commozione. Sì, perché io potrei commuovermi davanti a questa meraviglia. Assolutamente sì. Hashtag commozione. Scrivetelo qui sotto nei commenti. Fatemi sapere, non solo cosa ne pensate di questa challenge, ma soprattutto ditemi quali sono i cibi che per voi sono proprio il Natale. Che non sarebbe Natale senza quella cosa. Sono curiosissima. Io, ovviamente, come sempre, in descrizione vi lascio il link per potermi seguire su Instagram, il link per potermi seguire su TikTok, il link per potermi seguire su Twitch e il link della mia Amazon Wishlist. Io, raga, vi ringrazio tantissimo, come sempre, per essere rimasti con me anche in questo video. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao! Tantan!